Appena entrati all'università, ma già con tanta voglia di fare, sono le matricole dell'Associazione Zantle. Hanno ufficialmente adottato le aiuole posizionate davanti al Rettorato e piantato la loro targa. Oggi abbiamo dato un segnale alla città che comunque noi ci siamo, abbiamo molta voglia di fare. Abbiamo portato queste aiuole perché è una zona importante all'interno della nostra città. Abbiamo tutti i documenti che ci autorizzano, anche qualora volessimo magari impiantare qualche albero, qualche fiore. Secondo noi potevano essere curate meglio, quindi abbiamo detto perché non farlo noi. Da oggi quindi sarà compito loro tenere pulite e curate queste aiuole e perché no abbellirle. Grazie per la visione!